Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Pescara si riconferma città dell'inclusione annunciando un nuovo avviso pubblico nell'ambito del progetto PNRR Inclusione e Coesione rivolto a persone diversamente abili. Tre le aree di intervento, valutazione dei requisiti, esperimento di co-housing all'interno di due immobili di proprietà del Comune e inserimento nel mondo del lavoro. L'avviso è illustrato oggi in conferenza stampa dal neo-assessore alla disabilità Massimiliano Pignoli e dal sindaco Carlo Masci. Devo fare un ringraziamento agli uffici che si sono prodigati in pochissimo tempo a fare questo bando per cercare di far vivere insieme i disabili all'interno di una casa di proprietà del Comune. Quindi è un esperimento, sono particolarmente contento di questo tipo di attività perché non ci deve essere nessuna differenza tra i normodotati e i diversamente abili e questo potrebbe essere un inizio. Con il bando individueremo persone con disabilità che entreranno in un processo, in un percorso che permetterà loro di vivere autonomamente seguiti dalle associazioni di volontariato. È un investimento importante che riguarda sia l'aspetto strutturale perché noi andiamo a riqualificare un immobile che servirà proprio per queste persone che vivranno insieme in un immobile che avrà delle caratteristiche particolari grazie alla domotica e poi le associazioni che opereranno che sono l'associazione Diversi Uguali e l'associazione Arda. Sono due immobili, uno che verrà riqualificato e che si trova in via Aldomoro, un appartamento che avrà caratteristiche uniche per la città di Pescara e l'altro è quello dove opera l'Arda, perché l'Arda grazie al Comune di Pescara ha un immobile dove ospita ragazze, persone con disabilità e grazie al PNRR guardiamo con grande attenzione alle persone che hanno bisogno.